Ancora ciao ragazzi e bentornati sul canale YouTube, il secondo video di giornata. Oggi abbiamo parlato di Pjanic, abbiamo parlato dei rinnovi di alcuni senatori e abbiamo iniziato a fare un punto della situazione per quella che potrebbe essere la prossima Juve di Allegri. Ora sto preparando il video con tutti i nomi, con tutte le bombe. Vi chiedo ancora una volta di scrivere qui sotto in descrizione, in descrizione dei commenti ovviamente, tutti i nomi accostati alla Juventus per poi andare a fare, non lo so, una specie di elenco che andremo a commentare tutti insieme in un video su YouTube. Quindi ho bisogno del vostro aiuto, fatelo assolutamente e nel mente lasciate un mi piace al video come siete soliti fare, perché alla fine siete voi che fate andare avanti tutta questa baracca, con i commenti, con i mi piace, con le iterazioni, con tutte le cose che fate solitamente. E ovviamente scaricate anche OneFootball, non avete OneFootball sul vostro cellulare. E vi serve ragazzi, vi serve per cercare di capire come sarà la Juventus di Allegri del prossimo anno, quali saranno i nomi di mercato effettivamente possibili, plausibili per la Juventus. Quindi dipende anche e soprattutto da voi e dalle informazioni che andrete a recepire attraverso i vari metodi comunicativi. Allora, non voglio vendervi sogni, in questo momento non voglio vendervi sogni, perché come vi ho già detto, tante volte ci sono alcune cose da sistemare. In live su Twitch siamo arrivati a una conclusione, no? Che se giochi con Dybala e con Ronaldo, difficilmente riesci ad inserire altri attaccanti all'interno della possibilità di formazione, della probabile formazione. Ora, la Juventus di Allegri, come abbiamo detto all'interno del video inerente dei moduli, ha tante alternative, tante possibilità e dipenderà se giocherà Dybala, se giocherà Ronaldo, se giocheranno insieme. Allegri, come li ha gestiti Dybala e Ronaldo insieme? Dybala dietro Mandzukic e Ronaldo, oppure Ronaldo senza Dybala? Questa è stata la gestione di Allegri. La gestione di Sarri è stato un 4-4-2 molto scolastico, copertura e ripartenza con Dybala e Ronaldo là davanti e a Sarri va dato questo riconoscimento. È stato l'allenatore migliore, migliore, tra Allegri, Sarri e Pirlo, in grado di gestire la coppia Dybala e Ronaldo. È stato il migliore in assoluto, di tutti e tre. Pirlo è stato un po' sfortunato anche, diciamo così, Dybala non l'ha mai avuto a disposizione. Sotto Sarri invece, sia Dybala che Ronaldo hanno segnato tantissimo e tutti gli altri un po' meno, però Sarri alla fine del campionato è arrivato a quella disposizione, 4-4-2 scolastico, cosa che va a fare anche Pirlo. Se la Juventus si qualifica in Champions League, se la Juventus vince la Coppa Italia è perché alla fine Pirlo si arrende e decide di fare un 4-4-2 o 4-5-1 a volte, come in finale di Coppa Italia, 4-4-1-1, una specie di modulo del genere, in cui si accetta il fatto di difendersi con due linee da quattro, tra difesa e centrocampo, e poi si va molto di ripartenza. Sia Sarri che Pirlo arrivano alle Juventus e giocano tutto un altro calcio, ok? Triangulazioni, ripossesso, veloce, aggressivo, possesso, palla, sfissiante per trovare la giocata al corridoio. Queste erano un po' le idee miste sia di Sarri che di Pirlo. E alla fine, con i giocatori che ha a disposizione della Juventus, si arrendono, entrambi, e arrivano a schierare la squadra in difesa e contropiede. Questo è il riassunto che possiamo fare. È colpa degli allenatori o è colpa delle caratteristiche dei giocatori. Perché tante volte noi ci troviamo qua a pensare ai moduli, ma alla fine non si scappa l'idea di fondo. È sempre, come dice anche Sarri, nella conferenza stampa di presentazione della Juventus, individuare quei due o tre giocatori che ti fanno la differenza e metterli nelle condizioni migliori possibili per rendere al meglio. Che è esattamente quello che fanno tutti e tre i nostri ultimi allenatori. Allegri, quella soluzione non l'ha mai presa in considerazione. 4-4-2 e ripartenza con Di Valle e Ronaldo davanti, perché semplicemente c'era a disposizione Mario Mandzukic e si preferiva schierare un attaccante al fianco di Cristiano Ronaldo per farlo rendere al meglio. Cosa che ha provato anche Pirlo, salvo poi tornare indietro e sistemare una squadra con una formazione un po' più coperta. Quindi Ronaldo Morata verso la fine del campionato li abbiamo visti poco proprio perché preferiva Dybala o Kuluseski al fianco di Ronaldo che potevano giocare anche molto in fase di non possesso tra le linee a marcare il registro degli avversari. Ecco, credo che ad oggi con la rosa a disposizione della Juventus dovessero rimanere Di Valle e Cristiano Ronaldo si dovrà ripartire da qua. Non solo, nel video di oggi vi dicevo un'altra cosa molto importante. In questo momento non concentriamoci tanto sugli acquisti, il centravanti, il centrocampista superoffensivo l'ala da sogno. Concentriamoci sul coprire i buchi all'interno della rosa. Cosa significa? Un attaccante di riserva, un terzino sinistro di riserva ed eventualmente un regista che può essere Locatelli. In uscita Ramsey entra Locatelli. Quindi questi sono un po' i nomi, i ruoli da andare a individuare nella Juventus. Per quello che vi dicevo all'inizio non mi voglio vendere sogni. Assolutamente no. Voglio farvi una panoramica più chiara e possibile, precisa e delineata di quella che è la Juventus oggi. Quindi oggi, primo giugno 2021. Come giocherebbe la prima Juventus di Massimiliano Allegri? È molto semplice, direbbe qualcuno. E dato che vi dicevo secondo me Pjanic non arriverà, Chiellini e Bonucci potrebbero rinnovare, potrebbero rimanere, potrebbe rimanere anche Alessandro. Ok, partiamo con i giocatori che sono in rosa e cerchiamo di inserire soltanto quelle piccole caselline. Quindi questa è la formazione che andrei a schierare. Ad oggi, come potete vedere, ci sono pochi innesti. C'è Ken, che possiamo dire essere l'erede di Bernardeschi, un po' come in nazionale c'è questa dualità tra Ken e Bernardeschi. Sono loro due, mi stanno arrivando un milione di messaggi, quindi cercherò di togliere tutto. E poi cosa succede? C'è Locatelli al posto di Ramsey, come vi stavo dicendo, e dentro un terzino sinistro riserva di Alessandro. Quest'anno c'era Frabotta, che poveretto, è un giocatore che non era assolutamente a livello di Juventus come titolarità o come rotazioni, ed è stato inserito qua invece a Anderson Palmieri, che è un giocatore che secondo me la Juventus potrebbe andare a prendere, un nazionale italiano, un giocatore che al Cersi sta trovando poco spazio, un'occasione di mercato per completare la rosa. Quindi ad oggi la rosa è questa. È questa con questi tre nuovi innesti, Ken, Locatelli e Palmieri. Tre italiani, tra l'altro. Tre giocatori italiani. È una cosa che mi è sembrato un po' fastidio. Negli ultimi anni una Juventus sempre meno italiana, sempre meno senso di appartenenza alla causa Juventus, perché chi cresce in Italia, chi è un ragazzino italiano magari e inizia a sognare di giocare nella Juventus, la sente diversamente da un giocatore che magari l'ha sempre solo vista in Europa o un po' più da lontano. È una cosa che hanno sempre sottolineato tantissimi dirigenti, tantissimi allenatori. Io ripeto, non ho mai allenato, non sono mai stato dirigente, quindi non so dirvi se questa cosa è vera. Però tantissimi hanno sempre sottolineato questa cosa dicendo che si preferisce andare a prendere un giocatore della nazione di appartenenza del campionato della squadra perché la sentono più vicina, sentono la causa in una maniera differente. L'ultimo esempio che possiamo avere noi è Federico Chiesa, che è un giocatore nato cresciuto calcisticamente a Firenze, nato a Genova tra l'altro, mi pare, però cresciuto calcisticamente a Firenze e con la Fiorentina, quindi una società che odia bene o male la Juventus, ma Chiesa quando arriva sputa sangue per la Juve perché sa cos'è la Juve, sa qual è lo spirito di sacrificio della Juventus, quali sono gli ideali che va a incarnare la Juventus. Questo è l'ultimo esempio che possiamo fare bene o male. Come potete vedere c'è un punto interrogativo sul vice perché non so chi sarà il secondo portiere, secondo me dipenderà anche tanto dal fatto se entrerà o meno Donnarumma, perché come vedete in questo momento io ho lasciato Chiesa, ma c'è la faccina che sta meditando perché non si sa se Chiesa uscirà oppure no. Ripeto, se c'è la possibilità concreta di arrivare a Donnarumma ben venga, caso contrario possiamo ottenere Chiesa senza ombre di dubbio. E la stessa cosa, le faccine un po' così le mettiamo con Dybala e Ronaldo perché sono i due grandi punti interrogativi secondo me in questo momento. Ovvio che la formazione, il modulo, lo schieramento, come vorrà giocare la Juventus, nascerà tutto da lì. Esce qualcuno tra Dybala e Ronaldo? Sì o no? Perché in questo momento ovvio che ci manca qualcuno che può essere Moise Ken, vi ho già detto mille volte perché è un giocatore cresciuto nel viaggio della Juve e non può occupare lo slot Champions, è un giocatore che può arrivare anche in presto eventualmente o in uno scambio, abbiamo parlato con Demiral, vedremo se qualcosa di questo tipo si potrà concretizzare. Io oggi ho lasciato anche Demiral in rosa e come sapete bene vi dicevo che siccome uno tra Chiellini e Bonucci giocherà titolare nella Juventus. Quindi credo che dovesse iniziare oggi il campionato ed eventualmente quei tre nuovi innesti Palmieri, Locatelli e Ken per sistemare numericamente la rosa da Juventus, ecco questa potrebbe essere la prima formazione di Max Allegri con tanti giocatori pronti anche a subentrare come Kuluseski. Poi come potete vedere c'è McKennie che è schierato lì, non tanto perché lo voglio lì ma perché credo che in un centrocampo di questo tipo McKennie potrebbe essere impiegato in quella posizionale. Poi occhio che nel momento in cui non gioca Di Bala, come vi ho già detto nel video precedente, Allegri non andrà a fare un 4-4-2 o 4-2-3-1 che dir si voglia perché cambia veramente poco dal 4-4-2-4-2-3-1, la stessa formazione palesemente sugli stessi uomini, ma McKennie dopo potrebbe andare a fare la mezzala di inserimento. Come potete vedere il centrocampo non cambia tanto perché è inutile andare ad acquistare dei centrocampisti se qualcosa non si muove. Il mercato, la Juventus, lo farà ovviamente in base alle uscite. Ora abbiamo dei buchi e vanno completati e questi sono i giocatori secondo me più logici, più probabili, ideali anche come acquisti a livello economico, a livello sportivo, di occasioni per personaggi che possono effettivamente muoversi. Ripeto, non vi sto vendendo sogni, credo che questa sia la più pura realtà. Però poi se esce qualcuno esce uno tra Arabia e Bentancur, ecco che poi la Juventus dovrà andare a fare un acquisto per un centrocampista di un certo tipo che possa giocare in quella posizione lì. Per dire, se dobbiamo giocare col centrocampo a due, è inutile comprarlo Catelli e Pogba e non cedere a nessuno perché poi avresti tanti centrocampisti, ovvio che mi piacerebbe un sacco, ma lo considero poco probabile soprattutto se non esce Ronaldo. Bisogna ragionare a incastri. La Juventus deve arrivare a avere una rosa di 22, 23, 24 giocatori compresi alle riserve. Per dire, io qua metto Dragusin, metto Pinsoglio che sono giocatori che in questo momento sono, non dico seconde, terze linee, ma mi auguro che Dragusin possa iniziare ad avere un riciclo all'interno della Juventus. Quindi, signori, è ovvio che acquistando solo un centrocampista e che Locatelli non vai a modificare molto il centrocampo, che è il nostro punto debole. Io mi auguro che possa arrivare anche qualcun altro oltre Locatelli. Però ad oggi non me la sento di dirvi, ah, compriamo Milinkovic, ah, compriamo Pogba, ah, compriamo De Paul, ah, compriamo Canté, ah, compriamo De Jong, De Bruyne. No, non me la sento. Non me la sento per una questione numerica e per una questione economica. Dipende tanto se esce Ronaldo. Capite bene che se esce Ronaldo si sbloccano quasi 100 milioni di euro tra risparmio e ingresso e quindi lì sì che poi fa un colpo. Ma se non esce Ronaldo, ragazzi, abbiamo versato la clausola a Sarri, quindi non paghiamo più Sarri, ma abbiamo l'ingaggio di Pirlo, abbiamo l'ingaggio di Allegri che sono 7 milioni di euro all'anno, eventualmente il rinnovo di Dybala. Quindi passa tanto dalle cessioni. E già qua, già qua dovrebbero uscire Frabotta, Bernardeschi e Ramsey, che per Frabotta non ci saranno problemi, ma Bernardeschi e Ramsey dove li piazzi? Cioè già questa che è una formazione minimal, minimal con due ingressi praticamente, due ingressi, tre ingressi, facciamo tre ingressi, due uscite Bernardeschi e Ramsey e devi riuscire a piazzarli. E guadagnano cifre importanti, devi riuscire, non è facile anche solo piazzare questi due, ma anche solo entra Donnarumma a zero, devi piazzare Scesni, che guadagna 7 milioni di euro all'anno, 7 milioni e mezzo di euro all'anno, mica semplice, e fare tre ingressi. Quindi occhio, occhio perché il calcio mercato potrebbe davvero ruotare intorno alle occasioni di mercato. Come vi dicevo, io preferisco prendere Locatelli, spendere 30, 35, 40 milioni piuttosto che prendere Pianici in prestito, perché Locatelli poi è mio, è un giovane di prospettiva che può crescere ancora tanto, Pianici è un prestito secco di un giocatore che sì, conosce già Allegri, che sì, magari è anzi sicuramente più pronto, però poi l'anno prossimo sono ancora qua che dico, bene, e adesso? Centrocampo? Chi prendiamo? Quindi è molto difficile fare il calcio mercato, è molto difficile costruire una rosa, soprattutto è molto difficile se non capiamo se uno tra Ronaldo e Dybala esce, e se Donnarumma può venire da noi, al PSG, al Barcellona, insomma, è ora di iniziare a fissare qualche tassello. Ad oggi la Juventus potrebbe giocare così, una roba di questo tipo.